Mentre dalle forze dell'ordine nessuna notizia trapela sulle indagini avviate lo scorso 15 ottobre per la scomparsa della mamma vittoriese Giussi Pepi dalla sua casa di Vittoria, dove ha lasciato anche i suoi cinque figli, del caso continuano ad occuparsi le testate nazionali e nuovi dettagli vanno ad aggiungersi ad un quadro familiare che appare sempre più complicato. Dopo le dichiarazioni rilasciate dal marito Davide sul difficile passato della donna, ieri in diretta durante la trasmissione Rai Chi l'ha visto c'è stata la telefonata di un'amica di Giussi che ha dato una sua versione dei fatti. La donna, che ha deciso di parlare in modo anonimo, ha confermato l'ipotesi che Giussi si sia allontanata volontariamente da casa e ha spiegato che spesso si sentiva sola perché suo marito usciva tutte le sere per andare in giro con amici e la lasciava a casa con i figli. Secondo la testimonianza mandata in onda ieri sera su Rai 3, Giussi era costretta a vivere distenti. Una versione diversa rispetto a quanto si è detto finora di una donna fragile che aveva come solo punto di riferimento il marito. L'amica di Giussi ha detto anche che il marito sarebbe stato violento con lei e in più occasioni l'avrebbe picchiata. Poi un'altra notizia, Giussi il giorno dopo la scomparsa avrebbe dovuto fare una visita per certificare il suo stato di salute che le avrebbe permesso di chiedere una pensione. Lei non voleva passare per pazza, Giussi stava bene ed è per questo che forse è andata via. Non voleva questo certificato, aveva paura che poi potesse perdere i suoi figli, ha detto la telespettatrice in diretta. Insomma un racconto che dà un quadro diverso da quello fatto finora di Davide come di un marito buono e un padre premuroso. La famiglia attualmente vive con la sola pensione di un figlio perché anche il marito di Giussi non ha un lavoro fisso.